Buonasera e bentrovati in questa nuova edizione del TG6 in apertura la sanità. In queste ore stanno arrivando anche nella nostra regione i vaccini contro le nuove varianti covid. L'assessorato regionale alla salute è vigile sulla pandemia anche in vista dell'avvio dell'anno scolastico. Il servizio di Paolo Renzetti. Ci siamo, nelle prossime ore arriveranno anche nella nostra regione i vaccini per le nuove varianti. Sì è vero, in questi giorni stanno arrivando queste nuove dosi di vaccino, ne sono più di 100.000 che noi andremo a distribuire sulle quattro alz in base al numero della popolazione. Voglio innanzitutto ribadire che la vaccinazione è su base volontaria. Questo vaccino che copre tutte le varianti può essere somministrato agli over 60 come quarta dose e ai fragili. Invece può essere usata come terza dose agli over 12, ai sanitari e a tutti coloro che lo vogliono fare. Comunque una bella notizia in vista dell'autunno anche dalle riaperture delle scuole. Senz'altro la vaccinazione ha funzionato e senz'altro è un elemento importante perché porta in maggiore sicurezza. Però noi continuiamo a lavorare, vedo che questa nuova ondata è un'ondata che abbiamo saputo anche gestire gestire attraverso la nostra attenzione monitorando in continuazione e quindi dando delle risposte giuste. Il 12 settembre apriranno le scuole assessore e si parte all'insegna dell'ottimismo ma ovviamente con un'attenzione sempre massima al mondo scolastico. Sì è vero, il mondo scolastico è un ambiente a cui noi abbiamo posto sempre attenzione, abbiamo portato avanti tutto ciò che sono le norme di sicurezza. Proprio ieri in una commissione salute a livello ministeriale si è data la possibilità di poter anche dotare ogni classe, ogni aula di attrezzature per delle ventilazioni adeguate affinché ci possa essere un'aria sempre più salubre. Sono 526 nuovi casi di positività al Covid registrati oggi in Abruzzo, sono stati effettuati 912 tamponi molecolari, 3.284 test antigenici e il tasso di positività è pari al 12,5%. I nuovi casi provengono 118 dalla provincia dell'Aquila, 151 da quella di Chieti, 124 da quella di Pescara, 105 da quella di Teramo, 17 da fuori regione mentre per 11 sono in corso delle verifiche. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.650 poiché registra 4 nuovi casi di età compresa tra 76 e 86 anni, uno dei quali risalente ai giorni scorsi è comunicato solo oggi dalla ASL. Nelle ultime 24 ore i dimessi guariti sono stati 355, gli attualmente positivi salgono a 27.619 più 167 rispetto a ieri, 115 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica, meno 10 rispetto a ieri, 3 in terapia intensiva, meno 1 rispetto a ieri. L'ospedale di Ortona si dota di un nuovo sistema mammografico donato da Roche e Fuji, questa mattina la presentazione alla stampa. Vediamo. Oggi è una bella giornata per l'ospedale di Ortona ma per tutta la sanità abruzzese perché presentate questo nuovo impianto per la mammografia che è stato donato all'ospedale di Ortona che è un centro di riferimento a livello regionale. Sì, Ortona, centro di senologia e riferimento regionale che si allarga anche per recuperare grazie a una partnership pubblico privato con la donazione di un terzo mammografo sulla prevenzione del tumore alla mammella. Noi abbiamo con il Covid perso tante donne che non sono state schienate per cui purtroppo troviamo tante donne già con una tumore avanzata anche metastatico per cui chiaramente dobbiamo recuperare. tre anni in cui siamo scesi dai 15.000 donne che scriviamo ogni anno a 10.000 e anche quest'anno ancora la curva non sta crescendo perché ho anche un appello grazie a questa inaugurazione di un terzo mammografo a Ortona, complessivamente ne abbiamo 9 in tutta la provincia, alle donne di seguire l'invito allo screening e di farsi vedere perché purtroppo dobbiamo dire che se non viene diagnosticato in un momento precoce il tumore chiaramente ha una prognosi molto peggiore che quando lo screening viene seguito come previsto. Più che mai prevenzione? Assolutamente sì, noi da un lato stiamo recuperando le liste di attesa, la chirurgia che hanno avuto tanti indaventi rimandati che non erano agenti, stiamo operando tutti i casi oncologici in tutti i presidi di questa provincia, compreso la sinologia di Ortona, ma chiaramente come abbiamo detto non siamo pronti ad operare, però va diagnosticato in modo precoce grazie anche allo screening mammario. Ed ora la cronaca, ulteriori sviluppi circa l'inchiesta che all'Aquila ha portato alla emissione di misure cautelari a carico di minorenni per spaccio di droga e risse in una vicenda che vede coinvolti più di 30 indagati. Stamani il questore dell'Aquila ha firmato 23 da Spowilly nei confronti di molti dei ragazzi coinvolti. Il servizio. Sono 32 i giovani indagati dalla Procura della Repubblica per i minorenni dell'Aquila in merito a fatti crudi e violenti, nonché sconfinati anche in episodi di spaccio estorsione e stalking nel centro cittadino dell'Aquila. Una vera e propria baby gang del capoluogo che ha causato più di una notte insonne. Stamattina il questore dell'Aquila, Enrico De Simone, ha firmato altri 23 da Spowilly che vanno a colpire 23 giovani indagati al centro dell'inchiesta degli inquirenti fatti di violenza avvenuti nel centro storico aquilano la scorsa estate. Nella Marsica è stato raggiunto dalla misura del DASPO Willy un giovane unico coinvolto nelle indagini del territorio marsicano, coinvolto in situazioni di spaccio e di sostanze stupefacenti. Sono 13 i giovanissimi sottoposti ad oggi a misura cautelare. Tutti i soggetti coinvolti sono stati considerati dalle forze dell'ordine come persone socialmente pericolose per le loro condotte poste in essere. 23 DASPO di una durata che varia da un massimo di 36 mesi ad un minimo di 18 mesi tramite il DASPO Willy si vieta ai soggetti colpiti di frequentare determinati locali del centro città e di avvicinarsi alle scuole dove sono avvenuti gli episodi di cessione di droga. Quello che si vuole ripristinare è un clima di serenità e di normalità di vita sociale. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Pescara, Erika Alessandrini, polemizza con centrodestra e centrosinistra che sostiene hanno capito solo dopo tre anni che in città sarebbe auspicabile integrare il supporto alle forze di polizia locali. Vediamo. Consigliera Alessandrini, sul problema sicurezza oggi molti sostengono quello che tre anni fa sosteneva il Movimento 5 Stelle che a Pescara ci sarebbe voluto l'esercito, comunque i soldati per il controllo del territorio oltre alle forze di polizia. Sì esattamente, noi già nel 2019, quindi durante la campagna elettorale delle passate amministrative e poi anche in numerose altre sedute di Consiglio Comunale avevamo proposto l'attivazione dell'operazione Strade Sicure che non è nient'altro che la richiesta di personale militare che possa coadiuvare ed aiutare sul territorio gli operatori locali. e abbiamo scoperto purtroppo con il rammarico di tre anni persi che oggi si sono convinti di questo anche il centrodestra al governo della città perché il sindaco Masci in persona ha chiesto al ministro Lamorgese quando è stato qui a Pescara di poter inviare militari sul territorio pescarese per dare un sostegno, un contributo con la loro presenza e ieri abbiamo scoperto che lo ha fatto anche il centrosinistra perché nel Consiglio Comunale straordinario dal loro richiesto hanno presentato un ordine del giorno in cui anche loro hanno richiesto finalmente che ci sia da parte dello Stato quindi che venga da Roma vengano introdotte nuove forze di polizia e quindi comunque di coadiuvarsi con elementi militari sul territorio locale per contribuire tutti ad una maggiore sicurezza sul territorio. A proposito di sicurezza quanto è grande oggi il problema sicurezza a Pescara? Il problema sicurezza è evidente che c'è, il centrodestra ha scoperto che le telecamere non fermano le pistole, non fermano i coltelli, non fermano i pugni, non fermano le risse, non fermano le spaccate sostenevano come avessero la bacchetta magica che le telecamere avrebbero fermato tutto, si accorgono oggi purtroppo a spese dalla cittadinanza che questo non è vero. Dal 5 settembre il comando provinciale dei Carabinieri di Teramo ha un nuovo comandante, il colonnello Pasquale Saccone, casertano di 44 anni, che prende il posto di Emanuele Pipola, assegnato alla Legione Abruzzo a Chieti. Il colonnello Pasquale Saccone è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Teramo. Dal 5 settembre ha assunto il comando al posto del colonnello Emanuele Pipola, attualmente nella Legione Abruzzo di Chieti. 44 anni, originario di Caserta, Saccone ha prestato servizio in varie caserme campane e siciliane. Gli ultimi 9 anni li ha invece trascorsi presso il comando generale di Roma. Ha già incontrato prefetto, questore e procuratore di Teramo per avere un quadro chiaro della situazione sicurezza sul territorio teramano. Come lo ha trovato questo territorio? È quello di un livello di sicurezza sicuramente importante, sicuramente già consolidato. Il mio compito principale sia quello di non abbassare assolutamente la guardia e di continuare su questi livelli. Questo ci comporta, come sto cominciando a dire ai miei collaboratori, anche sulla base dei loro suggerimenti, che comporta che chiaramente gli approfondimenti saranno rivolti a tutte le realtà che interagiscono su questo territorio, dalla persona fisica a quella alle principali aziende, i principali imprenditori che lavorano su questo territorio. Sicuramente gli organici sono tarati sui livelli e sui obiettivi che ci prefiggiamo. Abbiamo un normale turnover che è rappresentato dagli avvicendamenti che avverranno nei prossimi periodi, tra personale più anziano che si avvia al congedo avendo raggiunto i limiti d'età e personale che sarà integrato a seguito dei numerosi concorsi che l'arma dei carabinieri ha indetto negli ultimi anni. Per cui riceveremo anche carabinieri giovani che ci daranno nuova energia per affrontare questa sfida. Chiaramente ho affrontato diverse realtà territoriali sia da un punto di vista nazionale che da un punto di vista internazionale, mi sono confrontato anche nei territori campani, siciliani, in particolare devo dire che lì ho trovato l'arma che ha fomentato il mio ardore giovanile per l'arrollamento, quindi ho trovato i veri valori che mi aspettavo di trovare e che mi hanno dato grande entusiasmo lavorativo e tecnico-professionale. È partita da un tratto di spiaggia libera in zona Grandi Alberghi a Montesivano la campagna di informazione della Filcamps CGL sui diritti dei lavoratori del comparto turistico. Altri appuntamenti ci saranno martedì e mercoledì prossimi. Vediamo il servizio. Mettiamo il turismo sotto sopra. È la campagna nazionale della Filcamps CGL che sbarca anche in Abruzzo. Da oggi e fino a mercoledì prossimo da sei tratti di spiaggia libera tra Montesivano e Pescara saranno distribuiti volantini e fornite informazioni circa i diritti dei lavoratori nel comparto turistico. Primo appuntamento stamani a Montesivano in zona Grandi Alberghi, un settore, dicono dal sindacato, dove già i lavoratori soffrivano condizioni di precarietà pre-pandemia. Un problema poi che si è acuito. Secondo dati ufficiali, a livello nazionale il 70% del lavoro nel comparto turistico è irregolare, il 40% precario, il 60% a tempo parziale involontario. D'altro canto la scarsa valorizzazione del lavoratore impedisce di fornire un turismo di qualità. Il nostro fine della campagna è proprio l'informazione, perché dall'informazione ai lavoratori si parte per la tutela dei diritti. Quindi oltre alle istituzioni, a chiedere alle istituzioni di vigilare su un turismo sostenibile, se rimettere al centro del turismo proprio il lavoro, è la professionalità, perché purtroppo noi abbiamo una mancanza di professionalità su questo comparto dovuto alle attribuzioni troppo basse. E' dovuto a questo luogo comune del reddito di cittadinanza e di operatori del turismo poco volenterosi e indisponibili, che non è l'altro che avere delle retribuzioni che non sono in linea e che non danno rispetto alla dignità del lavoratore stesso. La campagna informativa è fondamentale affinché i lavoratori, specie i più giovani, conoscono bene i loro diritti, li sappiano rivendicare, poiché anche così l'offerta turistica può migliorare. E' veramente deprimente da parte nostra quando lavoratori di 17, 18, 19 anni escono dalla stagione turistica, vendono da noi, sfruttati in tutti i modi. Non potete immaginare i contratti a 12 ore che poi vengono svolti 50, 60 ore settimanali e quei ragazzi credono che il mondo del lavoro sia quello. E anche se volessero vivere di turismo, purtroppo questo sistema non glielo potrà mai permettere. Cambiamo pagina, si chiama I Love Reptiles ed è la fiera di animali esotici, giunta la sua 28esima edizione ma che per la prima volta sarà ospitata dalla città di Chieti, al Foro Boario, il 24 e 25 settembre. Saranno presenti circa 70 espositori. Accanto a questo evento si svolgerà anche il Road Music Festival. Il servizio. Come programma delle fiere, insomma, anche con la ripresa post-pandemica, intendiamo veramente dare vita a un carterone che sia eterogeneo e un inizio di questo tipo ci sembrava opportuno anche per dare non soltanto un luogo agli appassionati di settore con veramente una rappresentatività massima, ma anche la possibilità di far conoscere un panorama così interessante alle persone che non lo conoscono. Quindi la volontà di aprire veramente alla città di un evento così bello, così inclusivo, ci sembrava qualcosa di doveroso. Inoltre poi anche tutti gli aspetti a margine di questa iniziativa che comunque collaboreranno a renderla partecipata con la musica e con tante iniziative all'uopo. È un'idea che è venuta proprio dalla necessità, secondo me, avendo vissuto per un anno qua, di una forte richiesta da parte del pubblico di un calendario eventistico. Quindi partiamo con questo progetto del Road Festival e della Fiera degli Animali, proprio per unire due mondi che sono totalmente lontani, se pensate. Quindi una parte diurna sarà sfruttata proprio per le famiglie e per chiunque sia curioso di venire a vedere degli animali esotici, mentre il Road Festival viene dalla strada, racconteremo artisti di strada, musica, artigianato, street food e tutto quello che richiama alla strada. Spero che in tutti i modi possa dare una possibilità alle persone di vedere cose che non hanno mai visto nella loro vita. Ringraziamo la Camera di Commercio che si è resa sin da subito disponibile. Abbiamo fatto una delibera di compartecipazione all'evento insieme all'associazione che ha organizzato e sulla base di questa compartecipazione abbiamo collaborato con la Camera di Commercio affinché quel luogo possa tornare a rivestire quel ruolo che ha rivestito anche in passato, perché è un'area importante della città a livello fieristico sulla quale puntiamo tutti insieme in maniera forte. Ed ora lo sport. Saranno in vendita fino a domani sul circuito Ciao Tickets i biglietti di Curva Sud, settore ospiti dello Stadio Francioni per la partita Latina-Pescara di domenica ore 17.30. Vendita riservata ai soli residenti in provincia di Pescara. Anticipata a questo pomeriggio invece la conferenza pre-gara dell'allenatore biancazzurro Alberto Colombo che vuole conferme in vista della prima gara in trasferta della stagione. Difficile il recupero di Ingrosso per la cui sostituzione si candida uno tra Boben e l'ex Brosco. Ascoltiamo Colombo. C'è bisogno di tempo e c'è bisogno di conferme. Quindi in questo momento noi abbiamo bisogno, perché siamo solo all'inizio, siamo solo alla prima, ancora di conoscere chi siamo. E in base anche a questa considerazione io credo che ho ribadito più volte che per noi è la prima trasferta alla squadra. Quindi dobbiamo cercare di avere una forza mentale simile a quella che l'Adriatico ci può dare. E non è sempre scontato. Quindi anche lì sarà un bel banco di prova per vedere chi siamo, perché alla fine tutte le amichevoli sono state in zona e le due di pari categoria sono state affrontate praticamente in casa. Quindi anche l'aspetto di come ci comporteremo in trasferta sarà da un motivo di curiosità domenica contro una buona squadra. Gianmarco ha subito un trauma contusivo, distorsivo, ginocchio, caviglia e quindi è in via di miglioramento. Vediamo se riusciamo a recuperarlo per la partita di domenica oppure è destinato ad aspettare i prossimi incontri. Chiaro che avendo ancora qualche giorno a disposizione proveremo a fare di tutto perché sia della partita, altrimenti ci saranno altri che potranno sostituirlo in modo egregio. Per quanto riguarda la seconda domanda, sta procedendo nel migliore dei modi. Chiaramente hanno bisogno soprattutto di condizione alcuni giocatori, parlo di Palmiero, parlo di Brosco e questa avviene sia con l'allenamento quotidiano che con le partite. Altri invece hanno magari più bisogno di un inserimento tecnico-tattico per capire quali possono essere le richieste e i movimenti della squadra. Quindi a oggi credo di essere soddisfatto di come loro si siano predisposti per apprendere e le risposte che stanno dando sul campo sono estremamente positive. Svelati ieri sera ad Alanno i calendari dei tre gironi di promozione, il Teramo inserito nel gruppo B partirà con il piano della lente. La presenza della formazione bianco-rossa per il presidente della LN di Abruzzo, Memmo, rappresenta comunque un fattore di interesse per il campionato. Stefano Recanati Presidente, quando si parte c'è sempre tanta emozione, qualsiasi di questa sia la categoria, eccellenza, promozione, prima categoria, ecco le società sono felici di avviare il loro cammino e poi di portarlo a conclusione, ecco il vostro aiuto è fondamentale. Sì, è verissimo, abbiamo scelto anche questo genere di manifestazione proprio perché riteniamo così come per il campionato d'eccellenza ma per tutti i campionati useremo questa specie di format. Perché riteniamo che il presidente è l'uomo che è messo al centro, che gestisce la società, che con le proprie energie, con gli propri sforzi porta avanti questo lavoro in maniera incomiabile e quindi vogliamo ripartire da lì, dall'uomo, dalle persone, farle stare insieme. Abbiamo voluto organizzare questa serata, una serata particolare nella quale possono stare insieme, si possono confrontare fuori dal campo. Se il Covid è stato il momento più difficile forse dal suo insediamento, è stato inserito nel campionato di promozione, qualche muso lungo però si parte. Ecco come sarà ovviata questa scelta, come andrà spiegata a tutte le società che si erano preparate per fare un buon campionato? Allora intanto è semplice, noi siamo uomini delle istituzioni e dobbiamo rispettare quelle che sono le indicazioni che in questo caso il Presidente federale ci ha dato. Come ce li ha date? Seguendo quelle che sono delle norme che esistevano già da tempo e quindi il Sindaco poteva fare questa manifestazione di interesse perché ha capito che nella città il calcio, rispetto a delle situazioni che molto probabilmente non appartengono nemmeno alla città, si allontanava. E quindi per scelta ha chiesto questo articolo 52,10 e noi il Presidente federale ha accolto questa richiesta perché comunque Teramo è un capoluogo di provincia, una città che comunque ha fatto calcio a livello professionistico, a livello importante e quindi nel momento in cui ha decretato questo articolo 52, quindi l'immissione e il campionato di promozione, noi seguendo quello che, come dicevo prima, essendo uomini delle istituzioni accettiamo quello che ci viene da parte del Presidente federale. Devono capire le società che il Teramo può ed è sicuramente anche, dipende sempre la chiave di lettura, le cose si possono vedere, quindi il bicchiere in questo caso può essere mezzo vuoto o mezzo pieno, è chiaro che normalmente qualcuno lo può vedere mezzo vuoto, quindi come il famoso intruso perché il Teramo sarà inserito nei giorni B come quindicesima squadra in esubero rispetto all'organico attuale. Ma si può anche vedere dall'altra parte, quindi un'attenzione maggiore del campionato, un numero di spettatori maggiori che per curiosità poi altro potrebbe seguire un attimino le sorti della società ancora maggiore, degli sponsor che possono essere interessati a quella che è una situazione proprio perché c'è una società importante in questo albico. Quindi bisogna sempre vedere da che punto di vista si vede. Io lo so che ci saranno dei problemi, lo sappiamo, sono emersi, ma sono dei problemi che esistevano prima del Teramo, che continuano ad esistere, cioè quelli delle strutture, dei problemi dell'agibilità delle strutture, quindi non è un problema sicuramente collegato al Teramo ma il Teramo molto probabilmente con il seguito di tifosi, se lo avrà, perché bisogna capire anche questa dinamica come si svilupperà, se lo avrà molto probabilmente ci potrà creare, ma non ci faremo trovare sicuramente impreparati, abbiamo creato una commissione, questa commissione dà affiancamento alle società per quanto concerne tutte le problematiche di ordine pubblico e quindi lavoreremo insieme a loro per cercare di risolvere gli eventuali problemi che potrebbero nascere. Si è chiuso lo scorso fine settimana il 32esimo torneo nazionale Open Città di Silvi di tennis, soddisfatti organizzatori e istituzioni sia per il livello espresso dagli atleti partecipanti, sia perché torna agli antichi fasti la struttura gestita dalla SD Circolo Tennis Silvi, vediamo. Il tennis di qualità è tornato dopo sette anni di stop ad animare Silvi e la sua struttura storica sotto l'egita della Federazione Italiana Tennis del CONI Abruzzo. Si è concluso il 32esimo torneo nazionale Open Città di Silvi e il settimo torneo nazionale Open Città Sant'Angelo con le fasi finali ospitate proprio sui campi situati sul lungomare di proprietà dell'amministrazione comunale e gestiti dall'ASD Città di Silvi. Diego Bravetti, tesserato dell'ASD Tennis Chieti, con il punteggio di 6-1-6-3, si è giudicato la finale ai danni di Marco Bonelli, atleta dell'ASD Circolo Tennis Casteldinama. Nella finale di terza categoria, tutta laziale, Gabriele Imparato ha avuto la meglio su Emanuele Gatti, entrambi del Reale Circolo Canottieri Tevere-Remo. Nelle due finali di doppio, femminile e maschile, le vittorie sono andate alla coppia Martina Mantua e Greta Fasano con il risultato di 6-4-6-3, sconfiggendo le avversarie Angela Concordia e Deleonora Spina e al duo Gianmarco Montanaro e Luca Ricciuti, con il punteggio di 6-4-6-4, inflitto a Leonardo Fulmini e Alessio Paradisi. Particolarmente significativa la cerimonia di premiazione a cui hanno partecipato il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, e il vicepresidente del Cogni Abruzzo, Alessandra Berghella, unitamente al referente dell'ASD Circolo Tennis di Silvi, Silvestro Di Berardino. Soddisfazione per la professionalità organizzativa e per essere riusciti a riportare ai fasti di un tempo, una struttura che storicamente si è sempre contraddistinta nel panorama tennistico nazionale. Pescara domani e domenica ospiterà allo stadio adriatico i campionati del Mediterraneo Under 23 di atletica leggera, in gara atleti di 17 paesi, il servizio. E in arrivo a Pescara il weekend dei campionati del Mediterraneo Under 23, due giornate di sfide fra sabato 10 e domenica 11 settembre, per l'evento che rientra in calendario a 4 anni dall'ultima volta dopo l'annullamento della scorsa edizione. Sono 17 i paesi annunciati, oltre all'Italia hanno confermato la presenza Bosnia-Herzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Kosovo, Libano, Macedonia, Montenegro, Portogallo, Serbia, Spagna, Tunisia e Turchia. In programma 37 gare dopo la chiusura delle iscrizioni, sono state tolte due staffette, la 4 per 400 uomini e la 4 per 100 donne, oltre ai 1500 femminili. Sì, ci siamo dopo un anno di lavoro e una grande opportunità per la nostra regione, per la città di Pescara, ospitare 17 delegazioni provenienti da tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e saremo quasi più di 300 atleti. È nata con una richiesta che è pervenuta direttamente dal Presidente Federale Stefano Mei, a cui mi onoro di essere amico, ed è nata così quasi per scherzo, però poi ci siamo ritrovati con un gruppo di amici, di fedeli, di appassionati, chiamateli come volete e ci siamo buttati in questa avventura e speriamo di portarla a termine bene. Abbiamo Ludovica Montanaro, ragazza di Chieti, che gareggia con l'Atletica Gran Sasso di Teramo, che ha fatto una stagione fantastica, straordinaria e si è meritata questa convocazione. Tutti i servizi che avete visto in questa edizione sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è con le prossime edizioni del TG6. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.